Faccio il giro a lì? Sì A velocità 80 praticamente 75, 70 all'ora Vieni su in seconda fino al centro di Pirilli Pirilli toglie il piede dal gas e vieni Sto riappato, basta arrivare al sinistro Vieni qui, non si vedi Tu si vedi Vai 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 Vieni qui Fai Quagli Non ci vedi mai sul volante che Prova che pure in cosa alla condera Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.